Guai per Christian Galletti Secondo quanto riportato da Il Giornale di Vicenza, l'ex tronista di Uomini e Donne, sarebbe finito in questi giorni di fronte al giudice di pace per il processo che lo vedrebbe accusato di aver rivolto insulti ad un carabiniere a seguito di una litera Con lui in tribunale sarebbe stata presente anche la moglie cara Gabrieleppo, chiamata a testimonianza Il fatto sarebbe accaduto due anni fa, precisamente nel mese di giugno Gallella avrebbe ingaggiato una lite con il carabiniere, che in quel momento si è trovata fuori servizio, a causa di un divergno che avrebbe riguardato i rispettivi cari Il carabiniere avrebbe riferito di essere stato vittima di insulti e minacce da parte del volto tv, a cui pare che intenda chiedere un risarcimento Da tempo lontano dalla tv, Gallella si sta dedicando in questi mesi con la moglie ad una nuova attività imprenditoriale inaugurata nella capitale Grazie a tutti!